Ho preparato tutto, ho tutto pronto ragazzi Piccolo, piccolo, Gohan, piccolo, Gohan, Gohan Ci sono tre piccole e tre Gohan Più chiesto di cos'è, proprio per chiamare il rito, il rituale satan No, no che poi Youtube rompe il ca... Andiamo, andiamo raga, seppulla Piccolo Gohan, piccolo Gohan, piccolo Gohan, piccolo Gohan Cerchiamo solo Piccolo Gohan perché cacchio lo voglia Lo voglio assolutamente, il nome, il nome è vero, il nome è vero Niente, Beerus continua a uscire, è tutto il giorno che o Beerus o Whis Il cerchio alchemico di Fullmetal Alchemist, vero, vero, vero Per Saiyan 3, ok E fu così che portò Radish, no, 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 dai per favore Non rompete con Radish Dopo aver fatto ste cose ti dopprerà solo Radish Net, se esce anche solo un Radish, spero che sfigherai per sei anni di fila Ti mando la macumba Beerus, Beerus, l'ha chiamato prima o poi Beerus, Beerus, ovviamente Te lo dico eh, se esce Radish, scappa Preparati a non pullare più per sei anni Preparati a non pullare più per sei anni Stai attento No, non lo so Geku Avrei ancora della roba da registrare che vorrei registrare Vabbè, la prima multa è andata, è andata da me E via Ok, e via, basta Niente, le animazioni non esistono Le animazioni non esistono Le animazioni non esistono Non voglio dover pullare 4 milioni di stone Lo voglio assolutamente Ok, però Voglio anche poi pullare su Heroes Voglio anche pullare su Heroes io Cioè, capiamoci 3 multi, 2 PG Dai che esce Terza multi? L'avevi già scritto prima? Vediamo dai Oh, esce una Whis Animation Sarebbe da Goduria Sarebbe da Goduria Oh, eh Yajirobe Era già a full Yajirobe Non me lo ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo se Yajirobe era già uscito a full Io non me lo ricordo se c'è a full Non è a full sembrerebbe No, un attimo No, devo controllare Devo controllare Yajirobe mica è full Ah, Yajirobe va a full Ma GG È uscito un anno fa effettivamente Raga, in un anno Vedete i Rare Summon Tech Se non si chiamano Vegeta Li trovo E li porto anche a full Tranquillamente Felice per Yajirobe Let's go Let's go Yajirobe Let's go Buono Quindi questa era la multi che lo trovavo? Terza multi secondo PG hai detto? Tentar non nuoce Tentar non nuoce raga Ah Yajirobe non funziona Mi dispiace Death Wings 20 giorni Domani è l'uno 20 giorni Ok Lazarus Grazie mille per la sub Con Twitch Prime Non vedo l'ora che arrivi sul Global Per Bardock Tech Grazie mille per la sub Certo che la tua sfiga è allucinante Oggi Sì sì Oggi sono abbastanza sfigato Sembrerebbe No ma è È la curso ormai Ho capito com'è quest'anno Il PG che mi piace Devo sclerare Il PG di merda Lo trovo istantaneamente Il PG di merda è istantaneo Vaffanculo i sellini Il PG di merda è istantaneo Ragazzi Quello l'ho capito Ogni Bardock ha una sub 2.50 Dai ti prego Dokkan Ti prego Dokkan Dammi Gohan È piccolo Satansubu Un'animazione Dai Banner comunque A prescindere Dai 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 Dokkan Dai Let's go Dokkan Per favore Fammi trovare quel cacchio di Gohan È piccolo Ti scongiuro Yamcha ability 1 Va bene Ok Tanto non lo compravo con i coin Quindi più ability troviamo Meglio è Però se è solo Yamcha Non è un bene Se è solo Yamcha Non è un bene Raga Dai Ti prego Dokkan Dai Gohan è piccolo Bardo Bardo Ability 1 Anche lui Ok È una coppia Non è loro Vabbè Due PG Dokkan Fest Dai Almeno quello Lazarus Grazie per la sub Regalata Era quello No Che dicevi prima Grazie 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 mille Per la sub Ok Allora Yamcha È un Bardock Queste sono le mie Primi multi Quindi abbiamo Yamcha ability 1 Bardock ability 1 Se non vado errato Voglio controllare Perché proprio Non me lo ricordo No È già ability 1 Cazzata Ability 2 va Ok Va bene Allora Bardock Possiamo già Non trovarlo mai più Chi se ne frega Vi fa capire qualcosa Se queste ability 1 Non gli ho mai dato le orb Vi fa capire esattamente la cosa Vi fa capire esattamente la cosa Ok Allora Andiamo 200 stone Andiamo Dokkan Ti prego Please Sto Whis de merda Vieni con Ma vieni con Ma vieni con Virus Whis Per favore Dai Dai su Che due palle Ressunto delle pull Eh Ressunto Va bene Ecco Dai Gohan è piccolo Gohan è piccolo Gohan è piccolo Dai Uscite È già il secondo Dokkan Cioè Tu non mi dai mai Quel cazzo di Vegetatech Sembra proprio scriptato Che non lo posso trovare Però Lo stesso Rare summon Non in rate up Me lo puoi spammare Giustamente Nello stesso Videopull No Giusto Giusto No no È Scriptato Proprio È scriptato C'è scritto proprio Vegetatech Pfff Due virus Sì Affanculo Dokkan Ti completa la combo Whis in animazione Virus nelle pull Eh ma non ha senso Perché prima ho trovato Virus Era virus Ho trovato virus Calma 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 La paura Perché potrebbero Essere Tre 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 SSR Not fun Dokkan Ti prego Bardock Cristo Bardock Ability 3 Vegeta Ma non è quello giusto Vabbè Sono tre SSR Credo Era l'animazione Per tre SSR Bardock F Mannaggia Dio Ok Andiamo Oh my god Number One Oh my god Number One Oh my god Number One Ti prego F F F F Ah Santi Dio Mamma mia Mamma mia Raga Posso solo dire Mamma mia Ah Neanche Fake out F Niente La fa Omega Garibri Anne Goku Int Dobbiamo provare Così per forza Non funziona Non sta funzionando Richiamiamo Con Ipg Di Merda Direi basta Effettivamente Parlando Sì direi basta È loro Ah no Aspetta C'è anche l'altro PG di merda Aspetta Eccolo Eccolo Lui che non volevo Sì 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 Ci sta Ci sta direi Ci sta direi Ci sta Ci sta direi Sì 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 Questo richiami Ipg di merda No Allora Facciamo funzionare Così O Non dico niente Long Long Calma Dai Dockan Dai ti prego Ti prego Dockan Gone è piccolo Gone è piccolo No 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 Non l'unico Full F L'unico Full Andiamo Non è Vegito Dai Dockan Please Questo è altro Per piccolo che muore Nel mio account però Madonna Mi sono sparaflasciato Radice fisico Sotto sotto Avevo paura Dai Pure la long Con super saiyan 1 Double crack the screen Pure No eh Fate volare Nett Fate volare Nett Per stasera Fatelo volare Per stasera Lo fate volare Ultime 50 E un sogno Dockan Ti prego Dockan Ti prego Ti prego Dockan Ti prego Dockan Ti prego Dockan Ti prego Dockan No God No 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 È un Krillin Troll È un Krillin Troll No Perché è un Krillin Troll No No Maledizione No No cazzo No No Prima copia Wow No 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 Chat No 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 Regà No Dai No Che cazzo Mega F Mega F Porca Iverer Summon Al posto Del Dockham Fest